Tornerà la voglia di correre Se stiti così potremmo essere Protagonisti di qualsiasi film Tornerò io, tornerai Cambieranno le mode, le canzoni d'estate Ma io sarò la stessa Tornerà questa voglia di correre Se mi guardi così potremmo essere La prima fila dell'ultimo film Questa è una puntata speciale di Accena Con Che registriamo dal concessionario Oriente Partner della Pescara Calcio In compagnia del Presidente Senile Sebastiani Buonasera Presidente, grazie per aver accettato il nostro invito Buonasera Luciano Zauri, il tecnico Grazie a te Luciano per aver accettato il nostro invito Presidente, inizio da lei Perché volevo capire Come mi giudica questi primi mesi Della gestione Zauri e del nuovo progetto Pescara Ma io credo che sia Un primo periodo più che sufficiente Considerando anche che abbiamo rinnovato molto E purtroppo non siamo stati nemmeno così fortunati In questo primo periodo Perché non vi dimenticate che da Pescara sono andati via Giocatori come Mancuso o Brugman e altri ancora Li abbiamo rimpiazzati con giocatori di uguale valore Che rispondono al nome di Tuminello Piuttosto che Palmiero Piuttosto che tanti altri ragazzi bravi che sono arrivati Ma purtroppo Soprattutto questi ultimi due Tuminello ha quasi terminato la stagione Ma Palmiero Speriamo di riaverlo presto Perché anche lui è stato vittima di un infortunio Che l'aveva tenuto lontano dai campi Quindi è evidente che Non abbiamo scuse Non cerchiamo scuse Però Un minimo di problematica L'abbiamo avuto Quindi Ritengo che il percorso fatto fino ad oggi Sia più che sufficiente Stessa domanda a Luciano Zauri Luciano Come giudichi il tuo lavoro Vediamo la mano un'altra volta Eccoci qua Come giudichi il tuo lavoro di questa prima parte Con i grandi Dopo quanto di buono avevi fatto l'anno scorso con la primavera? Ma io sono contento E tanto per l'occasione che appunto il Presidente mi ha dato Ho accettato ovviamente un grande entusiasmo È quello che ho cercato di trasmettere ai ragazzi Fin dal primo giorno del ritiro Sapevo Che avrei avuto comunque delle difficoltà Date appunto dalla Dall'impegno Dagli obiettivi Comunque sia Nella mia testa ho Grande serenità Perché comunque sia Andavo a fare insieme al mio staff Una cosa che abbiamo sempre sognato E volevamo fare È chiaro che Insomma Ce la stiamo giocando Ce la siamo giocata sempre Difficoltà ci sono state E ci saranno Però se la base c'è voglia di fare Voglia di mettersi in mostra Così come hanno Che hanno i ragazzi Credo che i presupposti siano buoni Qual è la cosa più bella Di questo Girone d'andata Presidente Ma ci sono state Sicuramente diverse Situazioni belle Come non pensare Alla vittoria rotonda Con il Benevento Benevento Ha preso fin qui Soltanto otto gol Di cui quattro Il secondo per cento Li abbiamo fatti noi Ma sono state Diverse partite Giocate anche molto bene Dove abbiamo raccolto anche meno Però è evidente Che in un processo di crescita Un processo di cambiamento Bisogna avere pazienza Se poi In questo sport Si parla sempre di progetti La parola progetto È una parola abusata Moltissimo Poi alle prime problematiche Si butta al mare Il progetto Gli uomini I giocatori E tutto quanto Noi non siamo così Lo abbiamo sempre dimostrato Abbiamo Grande fiducia in questo gruppo Grande fiducia nel mister E il suo staff E quindi lavoriamo insieme Ci saranno problemi Momenti di difficoltà E li dobbiamo superare insieme Come quando ci saranno I momenti belli Gioiremo insieme Facciamo subito Una stretta di mano Perché il presidente Nell'intervista contro il Venezia Era stato un po' pungente Nei confronti del tecnico Luciano Zauri Vi siete già chiariti Ma noi ci chiariamo E ci sentiamo quotidianamente Io Non è una questione Di essere pungenti Quando Si hanno rapporti Di collaborazione Di lavoro Al di là Dei rapporti Di amicizia Che ci sono E uno bisogna Che sia chiaro Bisogna che sia anche Quando serve Dare una mano Cioè dare una mano Perché molte volte L'allenatore Che è in campo Che è concentrato Su tremila cose Alcune cose Magari non riesce a vederle In quel momento Poi siccome è una persona intelligente Se le riguarda E magari pensa Forse qua avrebbe potuto fare così O forse ho fatto bene Però non siamo riusciti Ma questo fa parte del gioco Cioè non si può pensare Che se una persona dice Anche l'anno scorso Io sono stato sempre criticato Per aver Più volte criticato L'operato Scusate una ripetizione Di Mr. Pilon Proprio alla fine Siamo arrivati in semifinale In playoff E credo che anche lì Siamo cresciuti insieme Abbiamo migliorato Quelle problematiche Che c'erano insieme Se poi uno non ci si confronta Oppure non Non si riesce A dialogare Su certi aspetti Si arriva alla rottura E questa è una cosa Che non amo fare E non voglio fare Con nessuno Men che meno Che con Luciano Ecco allora Luciano In base anche a queste parole Che ha detto il Presidente Mi dici Qual è la cosa più bella Che ti è piaciuta di più Di questo inizio anno Il Presidente ha ricordato Il 4 a 0 Contro il Benevento E magari col senno di poi La cosa che ti è piaciuta meno E che non rifaresti Allora parto dalla fine Io rifarei tutto Perché alla base Comunque c'è Come dicevo prima C'è lavoro C'è Sono ore spese Lontane dalla famiglia Dedicate appunto Al pescare Che in questo momento È il mio unico obiettivo A livello lavorativo Per cui rifarei tutto È chiaro che È troppo facile Oggi dopo sconfitte brutte Come in casa Con il Crotone È la stessa parte Come in Venezia Qualche errore L'ho commesso L'abbiamo commesso Ma questo fa parte appunto Del percorso di crescere Che dicevamo prima Quindi gli errori Aiutano a crescere Bisogna fare Come dico ai ragazzi Bisogna fare altri errori Perché se commettiamo Sempre gli stessi errori È sintomo di Di poco intelligenza Le cose belle Le vittorie Le soddisfazioni Insomma La sera quando ti metti a letto Dopo una Dopo una bella prestazione Insomma Fai fatica a dormire Perché hai in testa Tante cose belle Che sono successe Ma la stessa cosa succede Quando le cose non vanno bene Per cui Alla base di tutto Credo ci sia Un grande equilibrio Da parte nostra Perché se vuoi di lavorare E vuoi di fare bene Siamo nel periodo di Natale Luciano Zauri A Babbo Natale In questo caso Al Presidente Sebastiani Cosa chiede? Ma io non sono abituato a chiedere A me non piace chiedere Facciamola alla letterina Di un rigo dai No guarda Ti faccio sorridere Ma io vado Una lacrimuccia L'ho tirata fuori E mio figlio Su la lettera di Babbo Natale Ha chiesto Quattro gol di Borrelli Tre di Galano E tre di Memushai Queste sono cose Che un bambino di sette anni Insomma fa riflettere Su quanto Quando tenga al papà E questo mi fa sorridere Ti ha perdonato Quando non gli hai portato Ibrahimovic Sì sì Anche che Piuttosto di Cristiano Ronaldo Quella fa fatica a digerirla Presidente Se dovesse arrivare Poi alla fine questa letterina La accontenta Zauri Ma Zauri Sa che con me può parlare Non serve che scrivere letterina Può parlare giornalmente Si può confrontare Non solo con me Perché poi Vedete Qui si parla sempre del presidente Perché magari io sono sempre in prima fila Ma qui sono persone che lavorano Insieme a Luciano Quotidianamente Mi riferisco a Giorgio Repetto A Antonio Bocchetti Che gira Come una trottola Per cercare di trovare Se possibile Dei correttivi Dei giocatori Che possono darci una mano Quindi le letterine Non servono Noi sappiamo benissimo Che regalo Ci possiamo fare Tutti quanti insieme Perché Come diceva Luciano Se Alla fine si riesce a fare Una partita bella Si riesce a vincere Una bella partita Andiamo a casa Tutti quanti contenti Magari Non dormiamo Per la felicità Ma Siamo soddisfatti Di quello che abbiamo fatto Quando le cose non vanno bene È una preoccupazione Per tutti Perché qui O uno Non è normale E allora non si preoccupa Ma se uno è normale È naturale Che si preoccupa Dopo una sconfitta O magari cerca di analizzarla Poi Il calcio è bello Anche per questo Perché ognuno Dice la sua Anche perché poi Non c'è la controprova Quindi magari Io avrei giocato così Io avrei messo Tizio Io avrei messo Caio Però la controprova non c'è Quindi Molte volte Si fa per ragionare Noi siamo arrivati Al termine Di questa Cena O meglio Di questo aperitivo di Natale Io direi al tecnico Zauri Di magari distappare la bottiglia Così facciamo In diretta Il brindisi Mentre Luciano Zauri Prepara la bottiglia Volevo chiedere Al presidente Sebastiani Qual è stata In estate l'operazione di mercato Più faticosa La mia No no L'operazione di mercato Più faticosa Devo dire che Se vogliamo È stata quella di Galano Perché Voi sapete tutti Che Cristian Lo cerchiamo oramai Da due o tre anni Ripagato bene Insistentemente L'abbiamo chiesto Evidentemente Ci avevamo visto lungo Però devo dire anche Che Cristian Si è Ambientato bene È entrato Subito bene Negli schemi del mister E sta facendo Una stagione Credo di tutto rispetto Quindi è sicuramente L'operazione Un po' più Che ci ha Ci ha messo Un po' più In difficoltà Avremmo voluto Farne altre Sì Una Dicene una Presidente Chiudiamo Ma noi per esempio All'inizio Abbiamo cercato Scamacca Che tanto bene Sta facendo Ad Ascoli Poi il giocatore Con il suo procuratore Aveva già un impegno Con l'Ascoli Non è venuto Ma Non siamo Delusi Del fatto che non sia venuto Perché avevamo preso Tuminello Che credo Che sia ugualmente Bravo Purtroppo Un po' più sfortunato Di Scamacca Però Ci auguriamo Di riaverlo presto Con noi E magari Che possa fare Un finale di stagione Ci possa dare Le soddisfazioni Che cercavamo Da lui Allora Con la bottiglia Che apre Luciano Zauri Auguriamo a tutti Un felice 2020 Ecco che arriva il brindisi E chiudiamo la trasmissione A proposito Eccolo qui Il brindisi Facciamo un goccetto Di brindisi Davanti alle telecamere Deve sarebbe il presidente Cantonio Che cura le riprese E da poco diventato papà Quindi auguri a Naomi Auguri a Chloe Che ci guardano da casa Assolutamente sì Auguri doppi Diciamo Sia per le feste Che soprattutto Per il lieto evento Perché sicuramente È la cosa più importante Il brindisi Il brindisi lo lascio fare a voi Io vi guardo da spettatore Eccolo qui Il brindisi Gli auguri della Pescara Calcio Di Un felice 2020 Tornerà La voglia di correre Se stiti così Potremmo essere Protagonisti di qualsiasi film Tornerò Io Tornerai Tu cambieranno le mode Le canzoni d'estate Ma io sarò la stessa Tornerà Questa voglia di correre Se mi guardi così Potremmo essere La prima fila Dell'ultimo film Per Sol Questa Ma Questa Questa